Il traforo del Gran Sasso riaprirà completamente nel giro di qualche giorno, strada dei parchi ha già avvisata e procederà a liberare dai materiali le piazzole. L'annuncio è stato dato dal commissario straordinario di governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso Pierluigi Caputi. Questa mattina c'è stata infatti una riunione con i progettisti di Talferr che hanno rappresentato al commissario che il permanere di situazioni non chiare, che hanno determinato la turbativa della trasparenza delle acque, crea un sistema di non certezze che non permettono di fare le attività. I progettisti insomma hanno proposto la riconsegna delle aree a strada dei parchi e su questa ipotesi Caputi ha detto sì, anche perché hanno appreso da Ruzzoretica l'intenzione di approfondire. Questa situazione stabile non consente di fare nulla in galleria. Detto questo nel giro di due o tre giorni si riapre, da chiarire comunque che le indagini geognostiche non sono annullate, sono necessarie. Procedere da sotto le gallerie è complesso, ha spiegato Caputi. La società immaginerà quali metodi che si potranno usare. Queste indagini geognostiche al momento non sono praticabili. Abbiamo questo tempo per approfondire prima di tutto che cosa è successo e poi per vedere se riusciamo a trovare forme alternative per conoscere la circolazione idrica. Il tempo non è un fallore indifferente perché il tempo significa anche semmai la realizzazione dei potabilizzatori all'estremità. Però tengo a sottolineare che la possibilità adombrata in un progetto di fattibilità mai approvato dal precedente commissario prevedeva delle perforazioni al di là della galleria in profondità di 20-30 metri per una lunghezza di 250 metri. Ogni 250 metri c'era questo tubo drenante all'interno del masticcio e grazzato. Proprio quella soluzione non sappiamo se andrà, se sarebbe andata, anzi a intercettare acqua o no. Questo è il problema vero. Caputi ha anche detto che non è corretto attribuire le cause dell'inquinamento a Italfair in quanto i mezzi non erano proprio entrati in galleria. Ha voluto precisare anche questo. Quando è arrivata la chiamata per fermare i mezzi ha spiegato e il direttore dei lavori ha fotografato il punto preciso, il chilometraggio della galleria. La telefonata dimostra che i mezzi non erano sul luogo quando si sono verificate le turbative. Loro erano abbondantemente nel lato verso l'Aquila. L'inquinamento dunque non è di peso certo dai mezzi. Quando è arrivato l'allarme per la perturbazione delle acque in essere, loro erano nel lato aquilano e neanche al vertice del lato aquilano. Voi sapete in galleria c'è un vertice e quindi nella zona dell'acqua arriva dentro i serbatoi della Gran Sasso Acqua. Quindi indubbiamente poi non potevano essere loro ad aver determinato. Mi si lascia dire che poi due macchine e un camion con rimorchio, se fossero stati loro con il loro passaggio a determinare inquinamento, forse il traffico ordinario sotto le gallerie lo avrebbe determinato fin da molto tempo. Va indagato quali sono stati i motivi.